Ok ragazzi, è uscita questa offerta E lo so che voi non sapete cosa fare, non sapete se ne vale la pena, se non ne vale la pena, se fa per voi Non preoccupatevi, ci sono qui io Ciao ragazzi, bentornati sul canale Allora, sono qui per farvi questo video velocissimo d'emergenza Visto che è un unicum in questo gioco ed è poppata fuori questa offerta Che appunto è la prima volta che vediamo in game Che comprende un oggetto appunto ancora mai visto Che è il cristallo 6 stelle duale Allora, questa offerta come è strutturata? Ci sono appunto 3 pacchetti, ne potete scegliere solo uno al costo di 3000 unità La cosa già buona è che questa offerta appunto è acquistabile con unità E non solamente con cash, quindi buono Però dobbiamo un attimo analizzare e capire innanzitutto Chi è il target di questa offerta e se effettivamente ne vale la pena o meno Ovviamente la divisione per classi del duale è la stessa del 5 stelle Quindi abbiamo talento mutante, mistico scientifico e cosmico tecnico Voglio strutturare il video in questo modo Prima vi parlo della mia situazione Dei miei ragionamenti che poi vi faranno capire se o meno acquisterò questa offerta E poi voglio fare un discorso generale per aiutare tutti voi a scegliere Allora per quanto mi riguarda Io sono in una situazione dove praticamente ho completato tutti i contenuti del game Eccetto per il 100% di abisso, l'esplorazione di abisso Che tutti sapete benissimo Sto rallentando un po' per pigrizia, un po' perché mi manca torcia Per quanto mi riguarda Sono in una fase dove sono abbastanza annoiato dal gioco Nel senso che mi sta dando pochi stimoli Ci sono poche cose da fare interessanti Alla fine è molto ripetitivo Quindi per la mia condizione Avendo a disposizione le unità L'unico dubbio sarebbe Mi tengo le unità per andare avanti in abisso Oppure mi do questo guizzo, questo brio Nell'usare queste 3000 unità per provare a prendere un PG interessante Nel caso specifico mio Questo cristallo mistico scientifico duale È una possibilità, anche se ovviamente non succederà Ma è una possibilità concreta e unica Di provare a targettare ulteriormente torcia Sappiamo tutti quanti duali ho aperto 5 stelle senza trovarlo Ma non credo che avrò per molto tempo un'altra occasione Di provare a restringere così tanto il pull Per tentare appunto di prendere torcia E questa volta 6 stelle Se contiamo anche il fatto, e qui ci viene in aiuto il nostro caro buon vecchio Aunt May Che per quanto riguarda il pull di mistici scientifici Se togliamo i personaggi che non sono presenti nel basico E togliamo le versioni 5 stelle che non sono presenti come 6 stelle Come ad esempio Scarlet, Quake, V2 eccetera eccetera Restringiamo il pull di questo specifico cristallo A circa una cinquantina di campioni Che se togliamo Doom e Torcia che sono ovviamente il top Presentano comunque una grandissima quantità di eroi Che sarei molto contento di aver speso 3000 unità Per trovare ad esempio un Dragon Man Ad esempio un Cap America In visione del futuro se magari più avanti lo doppierò Ci sono veramente tanti eroi void Doppiare Wasp che non mi dispiacerebbe Tigra Quindi è un cristallo che se per la mia specifica condizione Avendo i Kata 5 classe sia mistici che scientifici formati Se trovassi un campione tra quelli interessanti O comunque molto utili Potrei sicuramente subito portarli a rango 3 Quindi per il mio specifico caso Credo che questo cristallo sia la giusta spinta Anche per fare un contenuto in più Per divertirsi un po' Poi ovviamente come va va Sappiamo benissimo che si può trovare Hulk Si può trovare un altro P Rhino Si può trovare Ebonimo Fauci ed Ebono Si può trovare veramente di tutto Però diciamo che statisticamente Per la mia situazione Questo cristallo è assolutamente appetibile Consideriamo poi anche il fatto Che vabbè è un plus non incredibile Ma insieme al cristallo Ci danno anche 10 ISO mistico O scientifico comunque della classe che scegliete Di grado 6 Quindi un bel botto di ISO per rangare E un bel milioncino d'oro Che non guasta mai Ma veniamo a quello che interessa di più a voi Ovvero per voi questa offerta è valida È un'offerta per cui se avete sudatamente Accumulato 3000 unità Ci sta a spenderle Ci sta a buttarle così al vento Allora il ragionamento da fare secondo me è questo Questo potrebbe essere il modo Questa offerta potrebbe essere la giusta spinta Per chi ha necessità o comunque desiderio di diventare spaccatroni Ma non ne ha ancora avuto il requisito Mi spiego meglio Se voi avete ad esempio dei Kata 5 colorati Formati di qualsiasi classe Ma state aspettando il PG giusto da fare R3 E magari è l'unico requisito che vi manca per diventare spaccatroni Bene questo cristallo potrebbe essere sicuramente Il giusto trampolino di lancio La giusta occasione per provare a targettare all'interno di quella classe Un PG Un tot di PG Interessanti che voi ranghereste a rango 3 Con il vostro catalizzatore In modo da poter ottenere il titolo Quindi sicuramente per questo specifico tipo di giocatori Quindi che aspettano il PG giusto di una determinata classe Perché hanno il Kata Da fare R3 per diventare spaccatroni Secondo me avendo le unità Ovviamente non spendeteci dei soldi apposta Questo ve lo dico sempre Ma se avete le unità Perché fate arena eccetera eccetera Secondo me potete fare un giro al casino e provarci Ovviamente il rischio di trovare un PG che non vale l'R3 c'è Perché c'è sempre Però di certo vi date una chance Per tutti gli altri allora Sicuramente per le mega balene che hanno unità a profusione Finito tutto e sono annoiate come me Sicuramente è una cosa divertente in più E 3000 unità le possono buttare senza troppi problemi Ma stiamo parlando di un altro target Per tutti gli altri ovvero Chi è molto più indietro Ovviamente l'offerta è da cavaliere in su Quindi dovete essere almeno cavaliere Ma diciamo che chi è appena magari diventato cavaliere Si suda le unità E ha ancora tantissimi eventi da fare Ancora storia da finire 8-6, 8-7 Magari primo giro di abisso 100% labirinto E non spende Quindi tutte le unità che ha Sono tutte guadagnate col sudore Eh forse io passerei Perché comunque vedere bruciate 3000 unità Per magari trovarsi con un PG assolutamente Da non rangare E quindi dover rifare tutto il lavoro E essere bloccati negli eventi Questo sinceramente non ve lo consiglio Quindi ricapitolando Un'offerta interessante Soprattutto perché dà modo di spendere solamente unità Dà modo di targettare un PG 6 stelle Che è una delle poche Anzi forse l'unica volta in cui si può fare Esclusi i Nexus 6 stelle Che non targettano ma almeno ti danno tre scelte Quindi è un'offerta sicuramente più improntata Chi è più avanti nel gioco O chi ha il disperato bisogno di diventare spaccatrone E gli manca giusto giusto il personaggio Per tutti gli altri Io mi metterei la mano sugli occhi Farei finta che questa offerta non sia mai arrivata Anche se avete l'unità E le terrei Le terrei per fare gli eventi Le terrei per fare le cose che contano di più Quindi spero che questa mini recensione dell'offerta E questo mini consiglio Vi sia stato utile Ovviamente vi ho fatto capire Che io la prenderò Quindi prenderò la mistico-scientifica A 3000 unità E quindi seguitemi Live su Twitch Qui sotto c'è il link Sabato pomeriggio Perché faremo appunto La live settimanale Dedicata a Marvel Contestor Champions In cui faremo La disfida di Odino Grado 10 Insomma cazzeggeremo un po' in game E in più aprirò Questo cristallo E tutti gli altri cristalli Che ho accumulato Che penso saranno Un altro paio di 5 stelle Insomma qualche robina c'è Quindi Se il video vi è piaciuto A solito pollicione in su Iscrivetevi al canale Condividete con amici, parenti, cani, gatti e cincillà Noi ci vediamo quindi Sabato pomeriggio Live su Twitch Se volete vedere Questa stugosa apertura Una buona serata a tutti Ciao Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo